buongiorno amici e ben ritrovati qui sul canale di ideamente nel video tutorial di oggi vedremo la lavorazione del quadrato numero 18 del progetto la coperta del 2021 vi ricordo che il progetto riguarda la lavorazione di una coperta composta da 24 quadrati i cui tutorial escono qui sul canale ogni due settimane ogni quadrato ha una dimensione di circa 25 centimetri per lato lavoreremo sempre con il filato bravo in questa variante di colore che è l'8367 e sempre con l'uncinetto numero 4 il quadrato di oggi ha un punto molto facile da realizzare e anche ripetitivo perché è basato sulla ripetizione di quattro righe che vengono appunto ripetute nel corso di tutta la lavorazione fino ad arrivare all'altezza che ci serve per la dimensione della piastrella è formato con i punti alti in rilievo davanti e dietro e adesso vedremo passo passo la sua realizzazione come vi dicevo la coperta è composta da 24 quadrati vi lascio qui in alto nelle schede anche il richiamo alla playlist dove potete trovare i tutorial di tutte le precedenti piastrelle avremo anche un video dedicato alla loro unione e anche un video dedicato alla lavorazione del bordo finale che andrà a rifinire la nostra coperta bene non perdiamo altro tempo vi lascio al tutorial di questo quadrato vi auguro buona visione la catenella di base deve essere formata da un numero dispari di maglie per raggiungere la dimensione di 25 centimetri che appunto il lato della mattonella a me bastano 41 catenelle quindi lavoriamo il nostro cappietto di partenza ed eseguiamo 41 punti catenella ecco qui lavorati i 41 punti catenella facciamo una catenella in più che ci serve a creare l'altezza di lavorazione e nella seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto basso su questo punto basso ne andiamo subito a lavorare un altro proprio sopra a questo punto quindi entriamo dentro nel punto e lavoriamo un altro punto basso questi due punti bassi uno sopra l'altro sono quelli che andranno a sostituirci all'inizio di ogni giro una maglia alta quindi anziché sostituire la maglia alta con le classiche 3 catenelle usiamo questo trucchetto in questo modo il bordo della lavorazione sarà molto più regolare adesso proseguiamo lavorando su tutti i punti di base della catenella lavorando semplicemente a maglia alta quindi lavoriamo un punto alto per ciascun punto di base nella prima riga lavoro quindi 41 punti alti e questo lato sarà il lato dritto del lavoro una volta lavorati i 41 punti alti lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro come vi dicevo sostituiamo il primo punto alto con i due punti bassi uno sopra l'altro quindi nel primo punto lavoriamo un punto basso e nello stesso punto basso ne lavoriamo un altro e questo sarà il nostro primo punto alto diciamo sostituito adesso iniziamo la lavorazione con i punti in rilievo in questo secondo giro andremo a lavorare in questo modo lavoriamo innanzitutto un punto alto in rilievo dietro quindi carichiamo il filo entriamo nel lavoro da dietro verso avanti circondiamo tutta la colonnina del punto ripeschiamo il filo e nella parte posteriore quindi del lavoro andiamo a lavorare il punto alto così il punto successivo lo andremo invece a lavorare come un punto alto in rilievo davanti quindi filo sull'uncinetto entro da davanti e vado dietro circondando tutto il punto ripesco il filo lo faccio uscire e lavoro la maglia alta quindi ho lavorato il primo punto come punto alto sostituito con i due punti bassi poi ho lavorato un punto alto in rilievo dietro e un punto alto in rilievo davanti continuo a lavorare in questa maniera quindi alternando il punto alto in rilievo dietro con il punto alto in rilievo davanti per tutta la lunghezza della mia catenella della mia base di maglie alte quindi il prossimo punto è un punto alto in rilievo dietro quindi da dietro verso avanti circondo tutto il punto vado dietro il lavoro e lavoro la maglia alta e il prossimo punto sarà invece c'è un punto alto in rilievo davanti quindi da davanti verso dietro circondo il punto ripesco il filo e lavoro il punto alto vedete che in questa maniera si crea questo effetto diciamo a coste dove i punti alti in rilievo davanti mettono appunto il rilievo sul davanti del lavoro questa colonnina e sul dietro invece i punti alti lavorati in rilievo dietro fanno la stessa cosa però sul retro della lavorazione proseguiamo quindi in questa maniera per tutta la lunghezza e chiuderemo con un punto alto semplice diciamo l'ultimo punto lo lavoreremo come un punto alto normale ecco sto arrivando alla fine della lavorazione di questa seconda riga mi manca l'ultimo punto da lavorare come punto in rilievo dietro e poi o l'ultimo punto da lavorare della riga che abbiamo detto andiamo a lavorarlo come un punto alto semplice quindi vado a puntare l'uncinetto nel punto basso iniziale e lavoro la maglia alta finale come una maglia alta normale non il rilievo e quindi anche il secondo giro è terminato giro il lavoro con una catenella e proseguo con la lavorazione della terza riga nella terza riga vado a lavorare i punti come si presentano innanzitutto lavoro i due punti bassi uno sopra l'altro che mi vanno a sostituire la prima maglia alta e poi lavoro i punti come l'incontro quindi questo lo incontro come un punto alto il rilievo davanti e quindi sarà il rilievo davanti il prossimo punto lo vedo come rilievo dietro e quindi lo lavoro come rilievo dietro il punto seguente ancora è il rilievo dietro e quindi sarà il rilievo dietro proseguo così per tutta la lunghezza e chiuderò il giro con l'ultimo punto lavorato sempre come punto alto semplice non in rilievo ecco abbiamo chiuso anche la lavorazione quindi del terzo giro e quindi ricapitolando che cosa abbiamo fatto abbiamo lavorato la prima riga come una riga di preparazione tutta a punto alto la riga numero 2 l'abbiamo lavorata alternando il punto alto in rilievo dietro con quello in rilievo davanti e nella riga numero 3 abbiamo fatto esattamente la stessa cosa lavorando però i punti come si presentavano facciamo quindi una catenella giriamo il lavoro e iniziamo la lavorazione di questo quarto giro all'inizio facciamo sempre il solito punto basso sormontato da un altro punto basso per andare a sostituire la prima maglia alta e adesso proseguiamo lavorando sempre alternando i punti alti in rilievo ma senza lavorare i punti come si presentano andiamo a scambiarli quindi il prossimo punto lo incontriamo come un punto alto il rilievo dietro e quindi lo andremo a lavorare come rilievo davanti il punto seguente è il rilievo davanti e quindi lo lavoriamo come rilievo dietro il punto successivo è il rilievo dietro e quindi diventa il rilievo davanti e il punto seguente ancora è il rilievo davanti e quindi diventerà il rilievo dietro proseguiamo in questa maniera alternando quindi i punti in questo modo per tutta la lunghezza e l'ultimo punto lo lavoreremo sempre come punto alto normale vedete che si intravede già il motivo con i punti alti in rilievo che si scambiano da una riga all'altra ecco chiuso quindi anche la riga numero 4 con il punto alto semplice faccio sempre una catenella e giro il lavoro vado con la riga numero 5 all'inizio creo sempre il punto alto diciamo sostituito con i due punti bassi uno sopra l'altro e inizio la lavorazione della riga 5 andando a lavorare sempre alternando i punti alti in rilievo dietro e davanti lavorando i punti come si presentano questo primo punto mi appare come un punto in rilievo dietro e quindi lo lavoro come rilievo dietro il punto successivo invece mi appare come un rilievo davanti e quindi lo lavoro come un punto in rilievo davanti il punto seguente ancora mi appare come rilievo dietro e quindi lo lavoro in rilievo dietro e il punto seguente ancora è un punto alto in rilievo davanti e quindi lo lavoro come rilievo davanti prosegue in questo modo quindi per tutta la riga e quindi anche in questo quinto giro vado a lavorare i punti come si presentano ricapitolando abbiamo quindi lavorato in questa maniera nella riga numero 1 abbiamo creato una riga di preparazione tutta lavorata a punto alto nella riga 2 abbiamo lavorato alternando i punti alti in rilievo dietro e davanti nella riga 3 abbiamo confermato gli stessi punti lavorando i punti come si presentavano poi abbiamo fatto lo scambio quindi nella riga 4 abbiamo lavorato i punti sempre alternando i rilievi davanti e dietro però abbiamo scambiato i punti quindi laddove abbiamo trovato il punto alto in rilievo davanti abbiamo lavorato in rilievo dietro e viceversa nella riga numero 5 abbiamo confermato gli stessi punti quindi abbiamo lavorato praticamente due righe dello stesso tipo e due righe scambiando i ruoli dei punti andando a ripetere questa sequenza di quattro righe per tutta la lunghezza della nostra piastrella arriviamo a ottenere il quadrato con il motivo che abbiamo visto in anteprima ecco qui il risultato finale della nostra lavorazione quindi sono andata a ripetere questa sequenza di quattro righe due righe alternando i punti in rilievo davanti e dietro e due righe alternando i punti in rilievo dietro e davanti per tutta la lunghezza della mia piastrella fino ad arrivare all'altezza di 25 centimetri che mi serviva per la lavorazione del quadrato intero il risultato è molto morbido soffice e ha una consistenza davvero particolare tridimensionale molto piacevole anche al tatto bene io spero che il tutorial vi sia piaciuto come vedete il punto è stato davvero molto veloce e facile da realizzare l'unica sua caratteristica diciamo negativa è che mangia un pochino di più di filo rispetto ad altre lavorazioni perché appunto stiamo utilizzando i punti alti in rilievo vi do appuntamento qui sul canale tra due settimane per il prossimo quadrato della coperta e la settimana prossima invece ci vedremo per un altro piccolo progetto un altro punto sempre all'uncinetto vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se realizzate questa piastrella o altri quadrati o altri progetti del canale mi farebbe molto piacere vedere anche le vostre foto pubblicate vi auguro una splendida settimana e vi aspetto per il prossimo video ciao